Uè! In Italia non c'è più libertà di stampa! In Italia non c'è più libertà di parola! In Italia non c'è più libertà di poter coltivare fave radioattive sul balcone di casa! Quante volte avete sentito o detto cose simili? Ma soprattutto, sarà vero? Nella puntata di oggi di Statistic Hudson andiamo a spulciare un po' di indicatori internazionali per scoprire se queste affermazioni abbiano o meno un fondo di verità. Iniziamo! Premettendo che come al solito in descrizione troverete tutte le fonti che ho usato per fare questo video e che vi invita ad iscrivervi al canale e lasciare un mi piace in caso dovesse piacervi, iniziamo la nostra piccolissima carrellata con l'indice che viene più spesso nominato dai complottisti in giro per l'internette. L'indice di libertà di stampa. Il Press Freedom Index misura la cosiddetta libertà di stampa, definita come la capacità dei giornalisti, in quanto individui e collettività, di selezionare, produrre e diffondere notizie nell'interesse pubblico indipendentemente da interferenze politiche, economiche, legali e sociali e in assenza di minacce alla loro sicurezza fisica e mentale. Quest'anno l'indice di libertà di stampa ha fatto tantissimo rumore poiché moltissime testate giornalistiche, più o meno serie, hanno pubblicato diversi articoli citando un fatto molto grave e molto importante. Dal 2021 l'Italia ha perso ben 17 posizioni, passando dal 41esimo al 58esimo posto. Ma è vero? Eh sì, è vero. Ma allora è vero, siamo tutti in ditta tu! Calmi, calmi, calmi. Cominciamo col capire come venga elaborato questo ranking che, fondamentalmente, si fonda su due tipologie di criteri. Un valore quantitativo, riferito al numero di abusi contro i giornalisti in relazione al proprio lavoro e contro i media in generale, e un'analisi qualitativa della situazione in ciascun paese o territorio sulla base delle risposte di specialisti della libertà di stampa. Giornalisti, ricercatori, accademici, tramite un questionario, insomma. E qui troviamo il primissimo aspetto da sottolineare. La metodologia è cambiata quest'anno rispetto agli anni precedenti, quindi questo peggioramento in parte potrebbe essere dovuto anche a questo. Insomma, diciamo che non sono perfettamente comparabili i due risultati, ma a noi interessa il giusto, perché il Press Freedom Index è una fotografia della situazione attuale. E a noi interessa capire perché non siamo al primo posto per libertà di stampa. Allora, innanzitutto, sottolineiamo che in realtà non siamo messi poi così male. Abbiamo comunque preso 68 e 16 su 100, neanche due punti sotto il 70 che ci avrebbe classificato come soddisfacente. Diciamo quindi che non siamo proprio bocciati, piuttosto rimandati a settembre. E quindi diciamo che anche voi, dai community del canale di Gross, siete, diciamo rimandati a settembre su perché comunque vi siete avvicinati. Vi perdono per questa volta. L'ho già detto oggi di iscriversi al canale? Vabbè, è dubbio. Comunque, a noi non ce ne frega niente. Noi siamo dei secchioni e puntiamo al 10. E allora vediamo perché non abbiamo preso 10. Allora, prima cosa che notiamo è che l'unica materia in cui in realtà andiamo male sia l'economia, dove siamo nettamente insufficienti. In particolare scopriamo che, a causa della crisi economica, i media nel loro complesso sono sempre più dipendenti dagli introiti pubblicitari e dai sussidi statali, con una precarietà crescente che mina pericolosamente l'attività di giornalismo. Per il resto in realtà la media è più che sufficiente, ma scopriamo comunque qualche dettaglio in più. Cominciamo dalla politica. I giornalisti italiani godono di un clima di libertà, ma a volte cedono alla tentazione di autocensurarsi o per conformarsi alla linea editoriale della propria testata giornalistica o per evitare una denuncia tipicamente per diffamazione oppure per paura di rappresaglie da parte di gruppi estremisti o criminalità organizzata. Tutte cose negative, ma che non mi sembra che abbiano subito particolari variazioni rispetto agli anni passati. E allora perché siamo caduti così in basso? È davvero colpa del governo? C'è davvero la censura tecnica plutosanitaria dittocratica che ci blocca i contenuti? La libertà di stampa in Italia continua ad essere minacciata dalla criminalità organizzata, in particolare nel sud del paese, nonché dalle proteste di vari gruppi estremisti violenti che hanno visto un aumento significativo durante la pandemia. Traducendo, mafia, di fatti 20 giornalisti tutt'oggi sono ancora sotto scorta 24 ore su 24, e movimenti no tutto. Difatti è riportato che la polarizzazione della società italiana durante la pandemia di Covid-19 ha colpito i giornalisti, che sono stati oggetto di aggressioni sia verbali che fisiche durante le proteste contro le misure adottate dalle autorità per combattere la pandemia. Per cui nessuna dittatura, nessuna censura di Stato, semplicemente coloro i quali più frequentemente si lamentano di questa posizione negativa nella libertà di stampa, sono la causa principale di questa ricrescita. Comunque, so che amate le classifiche, quindi vediamo chi vince e chi perde. Ai primi posti troviamo Svezia, Danimarca e Norvegia, mentre ultimi Iran, Eritrea e Nord Corea. Ve lo aspettavate? Siete curiosi di sapere come se la cava qualche altra nazione? Scrivetemelo nei commenti e vi risponderò. E parlando di libertà, non possiamo non analizzarla nella sua accezione più ampia, ovvero intesa come libertà dell'individuo, di espressione, di associazione, libere lezioni e tantissime altre. E un'idea di come siano messi i diversi paesi, in questo senso, ce la dà il Freedom Index. Qui non ci sono classifiche, ma una cosa che possiamo subito notare a colpo d'occhio riguarda la classificazione come libera al pari di praticamente tutto il mondo occidentale, ma con un punteggio superiore a pesi, teoricamente, massimi come USA e Francia. Inoltre, possiamo vedere come negli ultimi anni non ci sia stato alcun miglioramento, ma nemmeno alcun peggioramento, e come anche focalizzandoci sulla libertà su internet, risultiamo comunque essere puliti. E poi a me bannano i video su TikTok e demonetizzano quelli su YouTube. Bravi poteri forti, state colpendo la gente giusta. Bravi! Otteniamo un pulitissimo 90 su 100, frutto di voti molto alti sia in relazione alle libertà politiche, dove il paese viene segnalato come libero in relazione a brogli e pluralità partitica, ma non otteniamo il massimo sempre per la presenza di infiltrazioni mafiose e per la scarsa rappresentatività data alle minoranze. In relazione alle libertà civili, invece, sono segnalate come normalmente rispettate, ma con sporadici casi di discriminazione legata alla razza e alla disuguaglianza in relazione alle opportunità di sviluppo su base regionale. Legasi differenze nord-sud. In questo caso, invece, l'avete leggermente sottostimata, amici miei, ma l'avrei fatta anch'io. La libertà su internet ottiene un voto più basso di 76 su 100, ma aspettate un attimo prima di andare a insultare Bill Gates perché, anche in questo caso, nessuna censura. Ciò che ci frena è altro, tipo l'accessibilità su base nazionale alle reti veloci, tipo il 5G, alcune caratteristiche di natura amministrativa, tipo i monopoli dei vari provider di internet e l'arcaicità della nostra regolamentazione che spesso appare poco chiara ed arretrata rispetto ad altre nazioni sviluppate, quindi nessuna censura ai contenuti. Anche se io darei l'ergastolo a tutti quelli che mandano ancora le emoticons con il buongiornissimo caffè, però pare de' mio. Un altro dato sostanzialmente simile ce lo fornisce l'indice di libertà umana, che l'analizza incrociando ben 82 indicatori diversi tra loro. In questa speciale classifica ci posizionamo ad un onorevolissimo 26esimo posto al mondo ed anche in questo caso non possiamo non notare subito come vi sia una netta differenza tra le libertà di carattere personale, nelle quali otteniamo un ottimo 9,12 su 10, e le libertà legate all'economia, dove comunque otteniamo un onorevole 7,61. In questo caso nella top 3 troviamo Danimarca, Nuova Zelanda e Svizzera, mentre agli ultimi posti Sudan, Yemen e Siria. Anche qui se volete sapere qualche paese in particolare scrivetelo nei commenti. Non c'è più democrazia, siamo in una dittatura, quante volte l'avete sentita questa? È vera? Nah. L'analisi in questo caso ci arriva dal The Economist, che da qualche anno a questa parte analizza il cosiddetto Democracy Index, un indice che si basa su cinque categorie, processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e libertà civili. Sulla base di diversi indicatori, ogni paese è quindi classificato come democrazia piena, democrazia imperfetta, regime ibrido o regime autoritario. Parentesi. L'indice implicitamente afferma che la democrazia sia una cosa buona, che è comunque un'opinione. Per esempio, ho diversi amici che amano rasarsi i capelli a zero e hanno una perenne erezione al braccio che la vedono diversamente. Il Democracy Index ci piazza al 31esimo posto nel mondo, con un punteggio di 7,68. Bene, ma non benissimo, se posso. Però anche in questo caso, se proprio vogliamo gridare la dittatura, aspettiamo un attimo e capiamo perché non siamo primi. Perché in realtà il pluralismo politico è ipergarantito. Ed anzi, una cosa che contribuisce ad abbassare il punteggio è l'ascesa negli ultimi anni di movimenti con posizioni estremisticamente populiste che hanno influenzato in alcuni casi il dibattito politico con manifestazioni ed altre attività di protesta. Ma ciò che ci butta realmente giù è un'altra cosa. Sono la scarsa partecipazione alla politica da parte dei cittadini e soprattutto il funzionamento dei governi, tra scarsa stabilità negli anni che non ha garantito un corretto funzionamento della democrazia e necessità di imposizioni dirette nel corso dell'ultimo anno per salvaguardare la salute pubblica, come ad esempio l'obbligo vaccinale per gli over 50. E considerando che mentre sto registrando questo video Draghi stia andando a dimettersi, anche se magari non vengono accettate poi da Mattarella, beh direi che è abbastanza vera questa cosa. In generale il livello degli italiani di sfiducia nei vari governi che si sono succeduti è altissimo. Pensate siamo al primo posto tra i paesi sviluppati con l'89% degli italiani intervistati che vorrebbe riformare il sistema politico nazionale. Tutto questo ci porta ad essere classificati come una democrazia imperfetta. Nella top 3 troviamo Finlandia, Nuova Zelanda e Norvegia, mentre agli ultimi posti Nord Corea, Myanmar ed Afghanistan. Ha, vi ho fregato. Sapevo che la Danimarca avrebbe fatto un sacco di vittime. La corruzione, il male endemico dell'Italia. E qua si è messi maluccio, eh? Non malissimo, ma maluccio. Ma cominciamo dalle buone notizie. Da ormai dieci anni stiamo costantemente migliorando in questa specialità, arrivando ad ottenere un punteggio di 56 su 100 che è comunque ancora insufficiente, soprattutto considerando che la media dei paesi occidentali sia di 10 punti superiore. Tuttavia è un risultato che ci pone comunque al 42esimo posto su 180. E con fenomeni ancora un pelino sgradevoli, come ad esempio le suddette infiltrazioni, ma anche dei dati come ad esempio un 3% dei funzionari pubblici che hanno accettato tangenti nell'ultimo anno. Raga, 3 su 100 sono tanti, eh? Tutto questo ci porta ad essere terzultimi in Europa, davanti solamente a Polonia ed Ungheria. Insomma, non benissimo. I paesi meno corrotti al mondo sono nuovamente la Danimarca, la Finlandia e la Nuova Zelanda, che diventano di diritto i paesi dei perfettini da odiare a pelle. Mentre agli ultimi posti abbiamo Marocco, Guyana, Colombia, Etiopia e Kosovo, il dream team con cui fare affari, se siete tipiloschi. Ultimo indicatore, prima che vi spariate sul piede per la noia e vi disiscriviate dal canale, è l'Economic Freedom Index, che misura il grado di libertà economica in termini di controllo del governo del mercato e di libertà di poter fare affari in libertà. Ho ripetuto libertà 6.000 volte, libertà, libertà, libertà. At a first glance, notiamo subito che ci piazziamo nel secondo quartile assieme ai cuginetti francesi. In questo caso, le materie su cui si viene valutati sono la possibilità di scelta personale, la libertà di entrare nel mercato e di competere, la sicurezza delle persone sul lavoro, la garanzia di proprietà privata e le pari opportunità nel mondo del lavoro. E l'Italia si piazza al 47esimo posto, quindi anche in questo caso non male male, mamaluccio. Diciamo che ho tenuto il peggio per la fine. Le materie in cui andiamo meglio sono la libertà di commercio, in cui siamo 14esimi al mondo, dato che è comunque importante visto che siamo un paese che scambia tantissime merci, ma anche la quantità di risparmi disponibili in cui otteniamo un punteggio di 9,4 su 10. Insomma, abbiamo il braccino corto ma siamo ancora un paese ricco, sostanzialmente. Le materie su cui andiamo peggio sono l'impatto delle manovre del governo, ancora una volta, con un livello di debito e di tastazione altissima che pesa sul paese e che ci porta ad un voto insufficiente di 5,72 su 10 e del sistema legale di protezione della proprietà, che è comunque sufficiente ma sotto media e che quindi non garantisce adeguata protezione ai contratti e agli investimenti. Ultima considerazione, siamo calati tantissimo. Nel 2000 eravamo ventitreesimi, ora dopo vent'anni abbiamo oltre che è doppiamente peggiorato la nostra posizione. Insomma, significa che in materia economica non stiamo andando verso il sole. In conclusione, cosa possiamo dire? L'Italia è sostanzialmente un paese libero, libero con nessuna imposizione dall'alto. Questo vuol dire che siamo un paese perfetto? No, abbiamo tantissime limitazioni, siamo imperfetti, tipicamente per inefficienze, per storicità o per comunque dei movimenti estremisti che minano alcune libertà. Però fondamentalmente ce la caviamo, ecco. Io per oggi chiudo qui. Spero che il video sia stato interessante, lasciate un mi piace, condividetelo magari con qualcuno o in qualche gruppo che crida la dittatura per fare un po' di casino, non lo so. Io direi che ci vediamo al prossimo video, vi saluto. Ciao!